La stagione 2018 di Formula 1 si chiude con l'ennesimo successo targato Mercedes. Ad aggiudicarsi il Gran Premio d'Abu Dhabi è infatti il campione del mondo Lewis Hamilton. Negli Emirati Arabi va in scena la 73esima vittoria in carriera per il britannico, undicesima stagionale. Hamilton precede il ferrarista Sebastian Vettel, terzo l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Il britannico prende subito la testa della corsa, approfittando anche della septica Arcaus a ritiro dell'altro ferrarista Raikkonen. Rientrato in quarta posizione e quindi artefice di un'ottima rimonta coronata da successo.